Sono Vada Gabriele e sono un intermediario assicurativo. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le persone per il proprio futuro. Marco Belzani ha un approccio diverso dagli altri. Lui è pratico, quindi si arriva al risultato. Basta tutta questa teoria, lui è pratico. Ti dà quell'energia di cui hai bisogno, ti dà lo spunto, fa sì che tu possa far luce su ciò di cui hai bisogno e sono quelle informazioni che già hai ma che hai bisogno di mettere in pratica e quindi assolutamente sì.